Gem City, uno studio di produzione di giochi mobili con sede generale a Los Angeles, ha annunciato in data odierna la disponibilità del nuovo gioco mobile Harry Potter Il Mistero di Hogwarts, scaricabile dall'App Store e Google Play. Sviluppato da Gem City in collaborazione con Warner Bros. Interactive Entertainment, Harry Potter Il Mistero di Hogwarts è il primo gioco mobile in cui i giocatori possono creare un personaggio tutto loro e provare l'esperienza di vita di uno studente di Hogwarts. Il gioco riporterà il marchio Portkey Games, il marchio di Warner Bros. Interactive Entertainment specializzato nella creazione di nuove esperienze di gaming con giochi mobili e videogiochi in cui il giocatore è al centro dell'avventura, ispirati alle storie originali di Ilunga K. Raul in punto questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l'intero comunicato qui a Generale di Gem City. Gem City si adopera con profondo impegno per accertarsi che tutti gli aspiranti maghi e stregoni possano accedere a Hogwarts attraverso i loro smartphone e tablet per intraprendere il loro magico viaggio. La storia di Harry Potter Il Mistero di Hogwarts è ambientata negli anni 80. Nel corso del gioco i giocatori avanzeranno da una classe all'altra come studenti di Hogwarts entrando a far parte dalla 500 alla 1 una delle 4 casate della scuola. I giocatori potranno creare e aggiornare personaggi personalizzati usando un sistema di personalizzazione di avatar, apprendere un'infinità di doti magiche e interagire con altri studenti. Potranno inoltre imparare di tutto, dalla preparazione di pozioni sotto l'occhio critico di Piton alla trasfigurazione sotto la guida della professoressa McGranit. Oltre agli incantesimi interattivi, il gioco esibisce un sistema di incontri in cui le scelte narrative influenzano determinate parti della storia. La mia partecipazione alla realizzazione del gioco Harry Potter Il Mistero di Hogwarts farà immensamente piacere ai miei nipoti, ha dichiarato Dei Magie Smith, la voce della professoressa McGranit nel gioco. I giocatori si imbatteranno in alcuni personaggi originali del gioco come Penny, una popolare esperta di pozioni della casata Tassorosso, la ribelle ed ispettosa Tulip della casata Corvo Nero e Merula, con un passato misterioso, della casata Serpe Verde. Man mano che i giocatori svelano Il Mistero di Hogwarts, esploreranno luoghi familiari come Diagonali e Augsmede.Harry Potter Il Mistero di Hogwarts è disponibile gratuitamente ora per dispositivi mobili tramite l'App Store e Google Play. Per ulteriori dettagli su Harry Potter Il Mistero di Hogwarts e per connettersi con altri fan di Harry Potter visitare www.facebook.com Barra a Hogwarts Maestery Barra www.twitter.com Barra o Whatever Maestery E per maggiori informazioni visitare www.Harry Potter o voz Meestery Barra Informazioni su Gem City Gem City è un leader del settore dell'intrattenimento mobile a livello globale che offre esperienze di social gaming a milioni di giocatori in tutto il mondo. Gem City è stata fondata nel 2010 dai cofondatori di MySpace Chris DiVolfi e Aba Witkombi dall'ex dirigente esecutivo di 20th Century Fox Josh Guado. Gem City è lo studio creativo che ha prodotto alcuni dei titoli di giochi mobili più redditizi e famosi nel settore del social gaming, tra cui Cookie Jam riconosciuto come gioco dell'anno su Facebook e Panda Pop. Gem City è lo studio preferenziale per Hollywood, avendo sviluppato giochi mobili immersivi dal ricco contenuto narrativo dedicati a marchi di intrattenimento iconici come Harry Potter, Family Guy, Marvel Avengers e Futurama. Gem City impiega 500 dipendenti presso i suoi studi a Los Angeles Sede Generale, San Francisco, San Diego, Seattle e Buenos Aires. Il team di Gem City è rinomato per la sua eccellenza creativa e innovazione tecnologica in aree chiave come narrazione di storie, scienza dei dati e intelligence sul pubblico. Informazioni su Warner Bros. Interactive Entertainment Warner Bros. Interactive Entertainment, una divisione dalla 500 alla 1 Warner Bros. Home Entertainment, Inc., è un prestigioso studio impegnato nella pubblicazione, nello sviluppo, nel licensing e nella distribuzione a livello mondiale di contenuti per il settore interattivo su tutte le piattaforme, compresi console da gioco, dispositivi portatili e mobili e giochi per PC per titoli sia interni che di terze parti. Informazioni su Portkey Game e Sportkey Games, di Warner Bros. Interactive Entertainment, è il marchio specializzato nella creazione di nuove esperienze di gaming con giochi mobili e videogiochi ambientati nel mondo magico in cui il giocatore è al centro del Grazie a tutti aderente